addirittura comunque sono partiti lungo la corda AirDryer cerca di mantenere il comando ma centro pista sono velocissimi Lady Aliena Gavid con a ridosso anche la vacanza poi più indietro Summer AirDryer un po' di nebbia a metà gara impedisce la visibilità poi ora escono con in leggero vantaggio Wases Rose con vicino la vacanza quindi Potala ancora in vantaggio sembra Wases Rose nei confronti di Shining Diamond poi a largo Summer nel tratto finale all'interno Shining Diamond a pariglia Wases Rose e Tiki Taka a largo poi ancora Wai Lai andiamo a rivedere questo concitato finale con Wases Rose che era passato in vantaggio a metà retta poi Shining Diamond al suo interno passa nelle ultimissime battute Tiki Taka e terzo all'esterno quarta la vacanza quinto Wai Lai quindi andiamo un po' ora a ricapitolare l'ordine d'arrivo se la regia ci ripropone ora di nuovo l'arrivo vediamo all'interno il numero 6 di Shining Diamond che dovrebbe averla spuntata con in sella Luca Magnezzi nei confronti di Wases Rose numero 13 dello schieramento mentre all'esterno dovrebbe essere ancora terzo in quota il numero 12 di Tiki Taka davanti al 5 di la vacanza e al 3 di Wai Lai quindi 6-6-13-12-5-3 è il probabile arrivo di questo quarte quinte sesta corsa da Napoli ma è meglio comunque aspettare visto i minimi distacchi il risponso del giudice nativo è tutto da Agnaro a sentirci mercoledì prossimo